complimenti benedetta oggi hai voluto mettere i puntini sulle ie sì diciamo che avevo bisogno io stessa di una conferma in più che è arrivata e sono contenta il podio il record italiano ti sei confermata a 360 gradi sì assolutamente e alla fine l'ultimo cento che avevo nuotato sui miei livelli è stato quello a novembre per qualificarmi per gli olimpiadi quindi mi serviva una riconfermo assolutamente e come procede la tua preparazione diciamo che queste gare non abbiamo proprio preparate al cento per cento quindi anche questo è un grande punto esclamativo e vediamo proviamo complimenti ancora grazie